Siamo in un luogo che realmente ti può sovrastare per il peso della storia e della bellezza. Ieri, grazie ad Andaf, abbiamo avuto modo di visitare una sessantina di noi il corridoio vasariano, come sapete, non può per ovvi motivi di opportunità e sicurezza e per l'incredibile ricchezza al suo interno essere aperto a tutti, se non con delle visite guidate. Ebbene, mentre ci recavamo lungo la strada, i 1100 metri a spanne da qui, la Santissima annunziata in Piazza della Signoria, che è la casa poi del sindaco, osservavo la storia, la bellezza e le mascelle slogate dei turisti, per la meraviglia, perché ogni volta, ma vale anche per ciascuno di noi, che è italianissimo, ogni volta che arrivi a Firenze, questa è la reazione di ciascuno di noi, è un'enorme responsabilità, è una fantastica opportunità di cui dobbiamo essere grati, per chi ci ha preceduto nei secoli naturalmente, la città che oggi ci ospita, il suo sindaco Dario Nardella. Benvenuto sindaco e grazie di essere con noi. Grazie a lei, grazie a tutti voi per aver scelto Firenze, sono lieto, orgoglioso di poter salutare questo congresso a nome della mia città e dei fiorentini e di ospitarvi qui per questi giorni, giorni in cui si parla molto di Firenze, anche per un appuntamento che partirà questa sera, non lontano da qui alla Leopolda. Mi piace vedere la mia città come una realtà aperta al confronto, alla discussione, ma soprattutto rivolta al futuro, così come al futuro è rivolto il vostro congresso. Per questo lasciatemi ringraziare personalmente l'amico Fausto Cosi per aver proposto la nostra città, la sua città come sede di questo congresso e sono sicuro che non rimarrete delusi anche dall'ispirazione che questi luoghi potrà portare nelle vostre riflessioni, nei vostri cuori e che lascerà nei vostri ricordi quando tornerete al lavoro nelle rispettive città. Però penso che la scelta di un luogo nel quale riunirsi e confrontarsi non sia casuale ma sia dettata anche dagli argomenti, dalle finalità che ci si pone e allora, come diceva il nostro coordinatore, Firenze è una città che ti pone quotidianamente di fronte ad una sfida ed è una sfida senza compromessi, che ha due opportunità o meglio direi due strade, l'una contrapposta all'altra. La prima sfida è quella di rimanere attoniti, fermi, schiacciati per certi versi dalla bellezza sorprendente che meraviglia di questa città, dalla grandezza straordinaria, impetuosa che ti pervade. Questo luogo, l'Istituto degli Innocenti, realizzato all'inizio del XV secolo, porta il nome di Brunelleschi e come non pensare alla cupola del Brunelleschi, a quanto questa opera straordinaria, un misto di tecnologia, architettura, arte, lasci tutti sgomenti. Questa strada è una strada che può portare al massimo ad essere dei buoni, diligenti custodi del passato, senza farsi sovrastare, però è una strada che Firenze non ha mai percorso, perché nessuna generazione tra quelle che ci hanno anticipato nei secoli passati si è limitata, si è accontentata di essere una semplice custode di ciò che ha trovato. E allora c'è un'altra strada, è la strada di essere sempre protagonisti, di forzare sempre lo status quo, di mettere sempre in discussione il contesto nel quale si vive e si opera, di essere sempre curiosi verso la realtà nella quale si vive, di pretendere sempre molto di più di quanto prima di noi altri hanno preteso da se stessi. Questa è la sfida quotidiana che i palazzi, i monumenti, le strade, le piazze, il centro, ma direi tutta la città di Firenze, pone di fronte a un visitatore, di fronte a un lavoratore o a maggior ragione di fronte a chi è eletto e chiamato a governarla. Non ci sono compromessi, non ci sono mai stati compromessi per questa città e allora penso che se vogliamo dare tutti un senso e sono convinto che voi abbiate voluto dare questo senso al vostro congresso, il dato è proprio quello di vivere la condizione difficile del nostro paese e dell'Italia come una potentissima spinta a cambiare, a riformarci e il titolo che avete scelto, cioè quello delle riforme per il cambiamento, le riforme per il futuro, ora il titolo esatto è le riforme per la ripresa, è un titolo che contiene secondo me questa voglia, questo desiderio, questa spinta. È vero, noi sentiamo parlare continuamente di crisi ma la radice etimologica di crisi non è altro che selezione, crescita, deriva addirittura da una pratica che gli agricoltori usavano nel separare il grano dal resto della pianta, allora tutte le crisi hanno un fine, terminano ad un certo punto e servono a offrire a chi è travolto da questa crisi l'opportunità di migliorarsi, di cambiare, di resistere ma di innovarsi per superare quelle crisi, vale per il mondo delle imprese, vale a maggior ragione per il mondo pubblico, con questo spirito noi in questi primi mesi ci siamo messi al lavoro, per esempio a Firenze, io non posso forse che parlarvi della nostra esperienza molto brevemente e allora ci siamo detti, prendiamo le riforme che il governo sta facendo e decliniamole subito nel nostro territorio, la riforma della pubblica amministrazione con l'eliminazione di alcuni livelli istituzionali per noi rappresenta un'opportunità che ha una parola, la città metropolitana che nascerà a gennaio, le città metropolitane sono il luogo dove si fa più innovazione e più produzione di ricchezza d'Italia, le 10 città italiane, le 10 città metropolitane del continente oltre a quelle insulari contengono il 40% del PIL e allora mettiamo in gioco questa forza, vi faccio l'esempio di Firenze, noi abbiamo 42 comuni, possiamo avere 42 sportelli unici all'impresa? Allora chiamarli unici mi sembra un eufemismo, facciamone davvero uno e cominciamo a vivere l'opportunità della città metropolitana e della riforma dell'APA che viene dal governo come uno strumento per semplificare la vita ai cittadini e alle imprese perché già ridurre il livello di pesantezza che la burocrazia porta nel Paese e che qualcuno ha quantificato in 31 miliardi di euro senza dover raggiungere risorse rappresenta già questa una prima risposta. Semplificare il sistema fiscale e allora ci siamo detti con gli altri comuni proviamo a fare un'unica addizionale invece di farne 42 o anche noi come amministrazioni comunali abbassiamo le tasse, la prima cosa che ho fatto con il bilancio 2015 è stata quella di azzerare l'addizionale IRPEF, a Firenze non si paga l'addizionale IRPEF tant'è che la nostra città è l'ultima città come complesso delle tasse locali, Tasi, Tari e IRPEF. Ora arriva la stangata, una manovra a 36 miliardi di euro, cosa hanno detto alcuni colleghi? Dobbiamo aumentare le tasse perché se ci tagliano i trasferimenti aumenteremo le tasse e pagheranno i cittadini e no, questo atteggiamento è sbagliato perché se c'è qualcuno che prova a darti una strada e quella strada è abbassare le tasse finalmente abbiamo una manovra che dà più di quanto riceve perché mette 5 miliardi di euro per abbattere l'IRAP che è l'imposta più odiosa perché si scarica proprio sull'elemento più forte di un'impresa che non è quello della rendita ma è quello della produzione di ricchezza, innovazione e lavoro, io cerco di fare la mia parte e allora non abbasso le tasse, faccio qualcos'altro, risparmio, 1.800.000 euro all'anno sui affitti agli immobili è un risparmio, cerco di semplificare la macchina amministrativa, stamani purtroppo non potrò rimanere con voi, andrò in giunta ma lì approveremo oggi un piano di semplificazione del comparto di dirigenti, forse voi non sareste contenti nel caso in cui lo facesse l'azienda ma vi assicuro che ne abbiamo molti nel Comune di Firenze con 5.000 dipendenti e quasi 100 dirigenti e di quadri, posizioni organizzative ma anche di collaborazioni esterne, insomma il ricatto di dire se tu mi tagli le risorse perché vuoi abbassare le tasse, io sono costretto a aumentare a livello locale le tasse dei cittadini, non funziona, dobbiamo remare nella stessa direzione, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, essere davvero un sistema paese come altri grandi paesi europei ci stanno dimostrando e farlo stando in Europa con una nostra idea di protagonisti, mi fa piacere che nel vostro congresso abbiate dedicato un settore rivolto proprio all'Europa così come un settore rivolto al made in Italy nel caso della moda e allora nel bilancio dell'anno prossimo noi nel nostro piccolo abbiamo detto bene tu impresa vuoi investire a Firenze nell'area metropolitana o intanto nel Comune? Bene, io per tre anni, i primi tre anni se assumi e investi per la prima volta in mio territorio ti abbatto l'IMU che è l'imposta più importante che ho a disposizione. Allora in momenti di crisi, in momenti in cui tutto ti fa credere che le cose andranno male devi reagire al contrario, non chiuderti nel fortino perché se tu stai chiuso nel fortino alla fine ti sfondano anche il fortino, devi giocare in contropiede, devi giocare d'attacco devi prendere il senso della sfida che ti viene da una situazione di crisi ed è quello che se tu non migliori e non cambi allora muori, ma se tu cambi e parti dal tuo interno allora puoi dare un segnale di speranza agli altri e giustamente finiamola con questa idea che con questo atteggiamento un po' tutto nostro che chiediamo sempre il cambiamento quando poi tocca a noi metterlo in pratica ci guardiamo dall'altro lato e chiediamo che sia l'altro a cominciare, non ci sto, non ci stiamo, non ci state voi a tutto questo, per questo è fondamentale che il pubblico e il privato dialoghino e mi fa piacere, mi congratulo con voi per il fatto che abbiate invitato a questo congresso molti interlocutori della pubblica amministrazione e delle istituzioni pubbliche perché anche qui rompiamo definitivamente il tabù che vede pubblico e privato come due nemici, ma di cosa stiamo parlando? il 70% della spesa pubblica degli investimenti della mia amministrazione va alle imprese, se noi non facciamo ripartire gli investimenti e il senso dello sblocca Italia è in quella direzione ne risente anche la filiera del rapporto tra pubblico e privato, se noi non sperimentiamo modelli nuovi nell'erogazione di servizi che puntano sulla sussidiarietà, parola antipatica difficile ma che significa alla fine che il pubblico può delegare al soggetto privato anche del privato sociale la realizzazione di una serie di servizi, basta che la finalità sia l'interesse pubblico perché pubblico e privato possono lavorare insieme per un interesse analogo o addirittura identico che è quello del bene del paese, allora se io non metto in discussioni modelli di welfare, modelli di sviluppo economico, modelli di investimento che sono quelli di 30 anni fa e non provo a innovare non vado da nessuna parte, per fare questo non significa che devo sacrificare i diritti, però significa che bisogna rompere lo status quo, significa che non esistono più privilegi per nessuno, significa che non ci sono dei tabù da difendere, dei fortini da chiudere a doppia mandata, dobbiamo spalancare le porte e io mi auguro che da questo congresso, da questo appuntamento venga fuori un'energia, una spinta che non è solo quella di lamentarsi, di piangersi addosso ma è quella di dire io ci sto, io sono pronto a mettermi in discussione proprio perché pretendo da me, pretendo anche da te, proprio perché voglio cambiare nella mia struttura, nella mia azienda, nel mio modo di lavorare, chiedo anche a te di cambiare come sto facendo io, c'è bisogno di questo, ce n'è un disperato bisogno e vi posso assicurare che un sindaco anche di una grande e bella città come Firenze, chiudo, scusate se l'ho fatta un po' lunga ma mi pare che gli argomenti che abbiate messo in cantiere siano molto stimolanti, è vero che un sindaco di una grande e bella città si confronta con cose straordinarie come questi congressi, ieri abbiamo ospitato i capi di stati maggiori di tutti i paesi d'Europa, l'anno prossimo avremo la visita del Papa con il Sinodo, festeggeremo Firenze capitale, abbiamo grandi sfide ma abbiamo anche le piccole sfide quotidiane che sono quelle di un sindaco che si deve confrontare con chi non ha una casa, con chi ha perso il lavoro, con chi cerca di sbarcare il lunario ma le due cose stanno insieme, se noi non abbiamo le idee chiare su una missione del paese e non ci mettiamo in gioco non potremo neanche dare quelle piccole, concrete eppure vitali risposte che la quotidianità con cui un sindaco volente o nolente si confronta deve misurarsi, questa è la sfida e sono convinto che ogni ora del vostro lavoro, ogni scelta che voi dovete fare come direttori, dirigenti che hanno sotto di sé donne e uomini con le loro ambizioni, i loro desideri, i loro difetti, i loro caratteri, le loro potenzialità, che ogni minuto che con una lettera, una mail, una telefonata, una decisione, voi stimolate, se noi non partiamo da queste piccole cose, da questi elementi e noi immaginiamo che ciascuno di questi elementi compone alla fine un quadro, mira ad una visione, punta ad un obiettivo e non andremo da nessuna parte e voi avete delle grandi responsabilità, è stata usata questa parola, ma la responsabilità non è soltanto verso gli altri e anche verso noi stessi, non c'è niente di più bello che arrivare a casa alla fine di una giornata esausti, distrutti, ma potersi dire abbiamo fatto qualcosa di utile, abbiamo dato qualcosa oltre che ricevere, siamo soddisfatti del nostro lavoro e soprattutto abbiamo trasmesso l'entusiasmo che abbiamo dentro di noi anche a chi lavora con noi, abbiamo trasmesso questo spirito di squadra che è ben altro che lo stellone individualista italiano sul quale per anni ci siamo adagiati, se alla fine, questa è la risposta che ci diamo, positiva, siamo nella strada giusta, siamo nella direzione giusta, c'è una nuova generazione che è quella di molte persone che vedo in questa sala, che ha capito come si può uscire da questa situazione, ma c'è anche una generazione di chi è diversamente giovane come si dice, che ha anche compreso gli errori che sono stati fatti dal paese nel passato, di un paese che ha pensato di sedersi a tavola come al ristorante lasciando che qualcun altro pagasse il conto, allora qui non c'è uno scontro tra generazioni, ma c'è uno scontro tra idee e le idee che devono vincere sono quelle che guardano avanti, con coraggio, con temerarietà, anche con un pizzico di spregiudicatezza, perché solo così possiamo uscire dalla palude, solo così possiamo abbattere i fortini tra le corporazioni, le organizzazioni, è vero voi siete un'associazione, ma si può vivere in tanti modi lo spirito di associazione, se vivi lo spirito di associazione come penso vogliate vivere voi, come l'idea di condividere un obiettivo comune, uno spirito di squadra, l'idea di essere uniti per cambiare e non uniti per difendere interessi o privilegi, ma uniti per guardare fuori dai confini dell'associazione, questo sarà un grande contributo e per questo a nome di Firenze vi ringrazio e vi faccio di cuore un grande in bocca al lupo.